Adesso vi racconto un fatto molto interessante, quando ero ai lanci c'era il ball, prima c'era Temple che è rimasto schiacciato tra una casa e il camion quando andavano via da buon esilio perché c'era un grosso rastrenamento a novembre, ecco lui è salito sul predelino, l'autista non ha visto, lui non ha visto cosa, l'ha schiacciato ed è morto a Cortemiglia, è arrivato un altro capitano Ballard, era una schifosa persona, gli italiani mangia polenta, gli italiani mangia qua, mangia carote, mangia qua e lì avanti e nei lanci faceva arrivare fagioli, tanti fagioli, tanti fagioli. Allora Gildo che era il comandante della pedagiera, carissimo amico molto, carissimo amico madonna, e Pregliasco che era detto agli inglesi, come accompagnatore degli inglesi, Pregliasco Augusto che è mancato lo stesso giorno di Gildo, porco giusto, dice dai tranquillo che te ne combiniamo una che ti ricorderai, va Ballard. Allora si mette d'accordo con Pregliasco e con Bogliolo che era il comandante della divisione, un uomo duro così, un uomo terribile, un comandante favoloso, era di Novi Ligure. Allora dice dobbiamo combinargli uno scherzo a Ballard, perché con questi fagioli non ne possiamo più, perché mangia solo fagioli, ma mandasse delle armi, delle munizioni, del tritolo, allora sì, ma manda solo fagioli, 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 allora sono messo d'accordo con dei cuochi, eccetera, hanno detto facciamo un po' una cena, no, un pranzo di fagioli, aperitivo di fagioli, dolci di fagioli subito dopo l'aperitivo, poi primo di fagioli, secondo di fagioli, dolce di fagioli e liquore di fagioli. Quando Ballard si è accorto del fatto sempre fagioli, sempre fagioli, perché li conosceva anche lui come gusto, si alza irritato, dice gli italiani siete delle merda, siete dei schifosi, siete, esce fuori, come esce fuori c'era tutta la schiera armata, presente con i fucili in presente, con il barattolo, il barattolo di fagioli sopra, alla baionetta, tutti presenti ad armi, ne ha avuto abbastanza, non ha più mandato fagioli, basta, non ha più mandato, questo è un fatto un po' particolare, però è un fatto che è esistito proprio, ecco. Io quando ero in postazione c'era una cascina sotto lì a 200 metri, adesso il nome Tudor qualcosa del genere, adesso non mi ricordo, io andavo lì quando lasciavo la postazione, che andavo a dormire magari nel fianile o sotto una panca o qualunque cosa, andavo lì mi davano qualcosa, un po' di brodo, un po' di brodo, un pezzettino di pane, anche loro non ne avevano, avevano un po' di castagne, un po' di patate che nascondevano dentro i fossi fuori, perché quando arrivava la brigata nera, loro controllavano, prendevano, facevano tutto, eh. E il mangiare, il mangiare, il mangiare che non ce n'era da nessuna parte, quindi le condizioni dipendevano anche la salute, dipendeva anche da quello, perché, sa, cosa vuol dire rimanere nei boschi notte e giorno, tutti i giorni, tutti i giorni, tutti i giorni, cercarti di salvarsi la pelle, eh. Era quello il discorso, salvarsi la pelle. Io come primo comandamento era quello di salvarmi la pelle, il resto non contava niente per me, anche se lo facevo dovevo farlo, ma non contava niente. Io, il mio primo comandamento, salvarmi la pelle, ecco, quello è stato fatto. Però in certe circostanze non può, non può, non può escludere, escludere niente. Vi dirò un fatto, che volevo dirlo alla fine, ma ve lo dico adesso. No, in quel periodo lì, della resistenza, nei boschi, eccetera, una sigaretta costava. La vita umana non costava niente. Ecco, quello che voglio dire.